Ciao a tutti, vi faccio salutare anche dall'Apsomì, che non è molto collaborativa oggi, poco charliera. Allora, io invece sono charliera, forse sarà perché finalmente c'è un bel tempo frizzantino, c'è un leggero vento di maestrale, quindi mi dà un po' di carica. Poi tanto che non vi parlo, vi ho parlato 20 minuti fa, ma adesso vi parlo ancora. Allora, perché ho deciso di fare una specie di, non lo so, di racconto a puntate. Siccome ogni tanto qualcuno mi dice, ma scusa, ma chi te l'ha fatto fare a te con tutto il lavoro che hai, con tutto il lavoro che già avevi come presentatrice Avon, di diventare Avon Leader? E beh, un motivo c'è. Ho deciso di raccontarvelo, ma siccome sarebbe lunga, invece so che vi piacciono le cose stringi stringi, brevi brevi, ve lo dico un po' per volta, così vi tengo anche un po' in suspense, no? Allora, non so se a voi è mai capitato che vi arrivassero dei pensieri. Pensieri magari scollegati tra di loro, che ne so, un giorno ti viene una cosa, poi passa un po' di tempo, un altro pensiero, poi un altro. E sono tutte cose che rimangono lì, che ce l'hai in testa, non riesci a dargli una forma, un qualcosa. Poi succede qualcosa, leggi, vedi, senti qualcosa e ti scatta. Questo qualcosa è un po' un effetto come i catalizzatori, no? Che prendono le cose, le mettono insieme e le modificano. E a me è successo la stessa cosa. Un giorno ho pensato, un giorno là, poi l'elemento catalizzatore. Ho conosciuto la storia di una donna, di cui sotto vi metto la foto. Una donna fantastica. Sapete quando dite di qualcuno che è avanti? Questa era, eh, avanti sull'avanti. Cioè è proprio una cosa pazzesca, una donna fantastica, di cui appunto vi parlerò bene nelle prossime puntate. Però leggere la sua storia è stata proprio quella cosa che ha fatto sì che tutti i pensieri che da un po' di tempo mi frullavano in testa, ma se ne stavano staccati tra di loro, non riuscivano a quagliare. Sono quagliati e voilà. E io ho deciso di diventare una Avon Leader. E dovessi proprio dirvi, dopo nove mesi, è quasi una gestazione. Dopo nove mesi che sono Avon Leader, posso dirvi che sono contenta. Sono contenta, voglio continuare. Cambierò alcune cose del mio modo di essere Avon Leader. Cercherò persone di un certo tipo, però di questo vi parlo nelle prossime puntate. Per adesso, oggi, finisce lì con la pubblicazione nei commenti della foto di questa donna che mi ha ispirato tantissimo. E vi annuncio che stiamo parlando di un'epoca lontana. Vi dice niente via col vento? Vi dice niente domani o un altro giorno? Qualcuno che se ne va dice francamente meno in fischio? Ecco, siamo più o meno in quell'epoca crinoline. Di seguito alla prossima puntata. Ciao!